Walter Nerozzi, l'amore per il cioccolato, la passione, dove nasce tutto questo estro artistico? Nasce da una dote che ho da anni, da un'esigenza proprio, da un'esigenza di scolpire il cioccolato perché sono un pasticcere da 33 anni e la pasticcere mi dà la possibilità di esprimermi in questo campo. Per realizzare una scultura ci sono tecniche particolari perché tu parti da un blocco di cioccolato ma penso che anche fare un blocco di cioccolato non sia tanto semplice. Certo, il cioccolato non è un materiale come il legno o la pietra quindi il cioccolato ha delle caratteristiche fisiche che bisogna rispettare quindi non si può colare un secchio di cioccolato tutto in una volta e pretendere che poi quando si va a scolpire con gli scalpelli abbia la stessa consistenza in superficie e all'interno quindi bisogna temperare il cioccolato, fare delle lastre di cioccolato non più alte di 2-3 cm e poi incollarle una sull'altra per avere la consistenza del cioccolato tutta omogenea, tutta uguale.